Musica Regionalismo differenziato, come può questa misura che il governo si appresterebbe a varare già nel prossimo Consiglio dei Ministri cambiare il mondo della scuola e della scuola pubblica nel nostro paese? Noi siamo totalmente contrari perché la cambierebbe in maniera irreversibile. La scuola del paese è quella descritta nella Costituzione, con l'autonomia non c'è assolutamente nessuna possibilità di trovare un equilibrio. Qua non si tratta di amministrare la scuola ma di governarla. La scuola è un'istituzione democratica e partecipata che non può essere amministrata. La burocrazia è già un male quella nazionale, figuriamoci un po' una burocrazia regionale. Renderebbe la scuola schiava del potere politico, sarebbe una sorta di controllo politico della scuola. La scuola deve essere libera perché un paese possa essere libero e possa avere un futuro. Quali le posizioni del sindacato e quali le azioni che il sindacato sta ponendo in essere contro i propositi del governo su questo tema? Allora, le azioni del sindacato è innanzitutto informare le persone perché ce ne sa poco. Qua sembra il terzo segreto di Fatima. Nessuno sa di che si tratta perché c'è una sorta di contrattazione privatistica tra il governo e le singole regioni. E già questo fa capire che non può essere gestita una questione così delicata in maniera non trasparente. Quindi il primo elemento che stiamo facendo è da parecchio. Stiamo incontrando la scuola come quella di oggi, il mondo della scuola, ma il mondo in generale. Dobbiamo parlare con le famiglie, con gli alunni perché questo non è un problema sindacale, è un problema del paese e quindi dei cittadini. Facciamo una battaglia di civiltà per i ragazzi. Immaginate un po' se la scuola non fosse libera, ora si parla di terrapiattisti che facciamo, la scuola che invece di istruire distribuisce le fake news. Noi abbiamo bisogno di una scuola libera. Quindi quello che stiamo facendo ora è l'informazione. Abbiamo programmato uno sciopero e lo sciopero l'abbiamo interrotto, abbiamo revocato perché abbiamo avuto assicurazioni da parte del governo. Ovviamente su questa materia non è una materia di tipo governativo ma di tipo politico e ci stiamo confrontando anche con le istituzioni. Abbiamo nei prossimi giorni incontri con il Presidente della Camera e del Senato perché si apre un grande dibattito nel paese. Poi diciamolo, autonomia può anche esserci ma non per la scuola. L'autonomia non è che siamo contrari al concetto di autonomia perché se si deve trasferire qualche attività amministrativa a livello regionale non c'è un problema. Ma il sistema nazionale, il sistema scolastico non è un sistema burocratico che si può trasferire dal centro alla periferia. Ci vuole il controllo del paese attraverso il Parlamento. ci sarebbe bypassato e si capisce che non può essere accettato. Vedremo, noi riprenderemo l'azione anche vertenziale ma stiamo raccogliendo centinaia di migliaia di firme, lo stiamo facendo in tutta Italia ma ripeto, non nelle scuole. Nelle scuole ma con la gente perché è un problema che riguarda tutti, riguarda il futuro di questo paese, futuro economico e futuro sociale di questo paese. Si mette in rischio la democrazia di questo paese. Non sto esagerando, sto utilizzando questi termini perché effettivamente è un rischio grosso e non è una questione di soldi, di spartizione, di residui fiscali, non è una questione di soldi, è una questione molto più ampia di valori che noi dobbiamo custodire nella scuola statale di questo paese e lo facciamo bene e dobbiamo preservarlo da incursioni che sono di tipo politico o partitico, se mi consentite. Quindi questo pensiero di dover governare la scuola come si è fatto per la sanità, tutti possono vedere gli effetti. Poi alla fine non avremo più un bravo chirurgo ma avremo un bravo chirurgo che è amico del politico di turno. Non vorreste avere un professore, un dirigente amico del politico di turno perché non farebbe il bene dei vostri figli. Sul tema più generale del regionalismo differenziato, nei giorni scorsi il professor Luca Ricolfi è arrivato a definire questa proposta del governo gialloverde come una vera e propria richiesta di secessione silente. Qual è la sua posizione e quella del sindacato che li rappresenta? Ma infatti come ne dicevo noi siamo totalmente contrari perché qua stiamo parlando della secessione. Si può pensare ad avere 20 sistemi scolastici in Italia, in un paese che deve essere unitario, il paese che è stato unito dall'Italia, dalla scuola. Io vorrei ricordare a chi ci ascolta che prima c'è stata l'unità culturale del paese e poi quella istituzionale. Se si perde l'unità culturale e si perde l'identità di una nazione si perde anche quella istituzionale e non vorremmo tornare alle nefandezze del Novecento. Quindi non possiamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo guardare all'Europa, dobbiamo guardare al mondo e la scuola è un balcone aperto sul mondo, non può essere una finestra aperta sul cortile. Noi usciamo da una fase difensiva dove più che migliorarla abbiamo dovuto evitare che la si peggiorasse. quindi siamo in una fase di ripensamento delle azioni che si mettono in campo. L'ultimo accordo, quello siglato il mese scorso con il governo, è una buona traccia su cui lavorare e che naturalmente pone tre problemi all'ordine del giorno del governo, che sono quello degli stipendi del personale che sono disperatamente fermi, sono esasperatamente bassi, la stabilizzazione dei precari e poi naturalmente c'è il tema dei temi che è quello del rischio di regionalizzazione del paese. Quindi la scuola in questo caso sta al centro dei ragionamenti. Quindi sono tre idee che stiamo mettendo in campo già da diverso tempo. Oggi alla presenza del segretario nazionale inizieremo a fare il punto della situazione e a rilanciare un'azione di forte proposizione perché è evidente la centralità del mondo della scuola l'abbiamo riproposto in questi lunghi anni di crisi. Oggi abbiamo necessità di interfacciarci con l'RSU, con i nostri amici, con i nostri dirigenti e naturalmente fare un po' il punto della situazione. Si riparte a partire dalle criticità del territorio dove noi abbiamo ancora il nervo scoperto delle scuole che sono ancora bloccate al quartiere Tamburi e anche rispetto a quello abbiamo bisogno di avere certezze. Quindi dai macro temi che sono quelli di carattere nazionale ai temi ugualmente importanti del territorio abbiamo una lunga giornata di lavoro che ci attende e che ritengo sia estremamente utile e positiva in questo momento. Nella giornata odierna abbiamo organizzato questa giornata di studi per approfondire la tematica per la campagna contro la regionalizzazione per dire ancora no alla regionalizzazione in occasione della firma e dell'accordo governo sindacati per quanto riguarda il nuovo contratto scuola approfondiremo tutte quelle che sono le novità introdotte nell'ultimo accordo e poi alla presenza del segretario nazionale, segretario regionale e del parlamentare europeo approfondiremo quello che è il tema della formazione. Nel concreto di che cosa è stata? La nuova opportunità qual è? La nuova opportunità per quanto riguarda ci sono state tantissime innovazioni abbiamo introdotto un grosso capitolo per quanto riguarda la formazione per quanto riguarda tutto quello che sono le missioni in ruolo e tutto quello che sono gli aumenti stipendiali che verranno e che saranno portati nel futuro contratto. Rivendichiamo la professionalizzazione per quanto riguarda il personale ATA il personale docente, la stabilizzazione e le nuove assunzioni. In Puglia diciamo che la scuola ha opportunità per essere migliorata se si verificano tutte le condizioni di natura politica che noi da un po' di anni stiamo spingendo. Noi abbiamo una scuola in Puglia che ormai ha tantissimi problemi a cominciare dai docenti di sostegno che mancano quindi abbiamo gli alunni diversamente abili che il primo giorno di scuola entrano in classe senza il docente di sostegno. Abbiamo una dispersione scolastica ormai ai massimi livelli la Puglia è al 17% al pari della Spagna che è prima in Europa abbiamo le segreterie scolastiche che ormai sono sobbissate di impegni di natura amministrativa, di burocrazia e quant'altro ebbene con tutti questi problemi purtroppo la politica pensa ad altro perché noi alla politica regionale abbiamo chiesto di incrementare il tempo pieno perché la Puglia ormai è tra le ultime regioni che utilizzano ad utilizzare il tempo pieno e questo perché da una parte c'è scarsezza di organico dall'altra gli enti locali fanno fatica a mantenere i servizi che sono utili al tempo pieno tra cui il trasporto e la mensa quindi questa politica regionale noi la vediamo un po' distratta pensa ad altro, non pensa per esempio al fatto che si sta ripercuotendo sulla nostra regione l'autonomia differenziata quindi la regionalizzazione della scuola statale che diventa un problema grosso per questa regione quando abbiamo problemi di spesa per l'istruzione